ci ho creduto dal primo momento sono contenta di aver raggiunto questo risultato e oggi è arrivato il giorno della firma poi la mano ha tremato devo ammettere di sì anche quando dovuto compilare l'indirizzo ho avuto qualche dubbio anche su date che inevitabilmente conoscevo cosa hai pensato quando hai firmato il contratto pensato che sto firmando il contratto della vita perché sicuramente entrare ora ho 26 anni sono giovanissimo firmare ora per l'inps significa firmare per il lavoro della vita